Lascia che la tua luce brilli. Gesù ti stima molto, non ti sottovaluta, né che ti considera qualcuno di poco valore. No, al contrario, questo è quello che Gesù dice di te. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Matteo 5, 14. Gesù ti dichiara meritevole di rappresentarlo, di far risplendere la sua luce verso tutti coloro che ti circondano, come fa una lampada nel buio. Matteo 5, 15. Gesù si fida di te. Ecco perché ti affida la sua missione. Tu sei la luce del mondo. Dentro di te hai il potenziale per illuminare, lasciare un segno e portare a Cristo coloro che hanno bisogno di Lui. Stai certo che Gesù che abita in te con la sua luce ti rende capace di andare a testimoniare per Lui. Come dice la Bibbia, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, 16. Grazie di esistere. Eric Selerie. Grazie.